Sconfitta casalinga per il Fasano che non brilla e viene punita da una cinica quanto quadrata Altamura, un derby sulla carta ricco di contenuti tra due squadre che inseguono punti pesanti per alimentare le relative classifiche nella corsa verso una tranquilla salvezza. I biancazzurri fasanesi puntano a dare continuità ai risultati dopo la preziosa vittoria esterna di Sarno. Non è della gara il centrocampista Facundo Ganci appiedato dal giudice sportivo. La terza rispetto a Sarno inserisce dal primo minuto Gori, Cobo e Tutti Santi in panchina Corvino e Bernardini. Cozza manda subito in campo l'ultimo arrivato, l'attaccante Rabbeni. L'inizio della gara non è proprio entusiasmante, devono trascorrere dieci minuti per vedere una bozza d'azione pericolosa. La costruisce l'altamura con Rabbeni che serve il palazzo la cui conclusione finisce alta. Al ventisesimo il primo guizzo del fasano, Tutti Santi serve Serdi che dal limite fa partire un tiro che si spegne sul fondo. Sul ribaltamento di fronte arriva il vantaggio ospite. Azione tambureggiante bianco-rossa con Guardieri che salva una prima volta su Portoghese ma poi sul proseguo deve soccombere al colpo di testa dall'interno dell'area piccola del numero 7 al Tamurano. Il fasano non reagisce e al trentottesimo sono gli ospiti che vanno vicino al raddoppio. Calcio di punizione di Guadalupi che si stampa sul palo e per poco il portierino fasanese non se la butta dentro da solo. Al quarantacinquesimo il fasano si rivede in attacco. Serri mette in mezzo un pallone su cui Forbes non ci arriva per un soffio. Poi Montaldi serve Tutti Santi che si fa a murare la conclusione. Squadre negli spogliatoi con gli uomini di cozza in vantaggio. La ripresa sembra vedere un altro fasano che al secondo val tiro con Cobo ma la conclusione è debole e para facile. Volzone al settimo Guadalupi è ancora pericoloso su punizione con Guardieri che devia in angolo. Al ventunesimo sempre il numero 10 al Tamurano. Pennella in mezzo per Palazzo che spreca di testa tutto solo. Al ventiquattresimo Diop e Guarnieri rischiano l'autorete sul traversone di Palazzo. Due minuti dopo la più clamorosa occasione del fasano per pareggiare. Montaldi server Corvino che spreca calciando di poco a lato. Al ventisettesimo viene espulso l'alta Murano Trinchera per doppia munizione ma il fasano non è approfitta ed è la squadra ospite al quarantanuesimo a sfiorare il raddoppio con Tedesco che in contropiede non riesce a superare guarnieri in uscita. Al triplice fischio amarezza biancaazzurra è un'alta Mura che saluta il momento di crisi.